Sono 44 le opere di edilizia scolastica da realizzare in Sicilia entro il 2025, con i fondi del PNRR pari a oltre 91 milioni di euro. La Regione Siciliana ha presentato al Ministero dell'Istruzione l'elenco degli interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in linea con quanto richiesto dal Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione dell'edilizia scolastica. Il monitoraggio del Dipartimento Regionale dell'Istruzione ha preso in esame 78 progetti riguardanti le scuole siciliane. 44 di essi presentano i requisiti previsti dal PNRR e sono cantierabili, ha detto l'assessore regionale dell'Istruzione Mimmo Turano. Interventi riguardano sei province della Sicilia e interessano scuole elementari, medie, istituti comprensivi di pertinenza dei comuni, istituti superiori delle città metropolitane. Si tratta di 44 interventi in tutto per un finanziamento complessivo di oltre 91 milioni di euro. In particolare sono previsti due interventi nella provincia di Agrigento, come nella provincia di Enna. Nel Catanese nove interventi, mentre nella provincia di Messina è previsto il maggior numero di interventi, per un totale di 15. Nel Palermitano sono sette, nella provincia di Ragusa quattro, due interventi interesseranno la provincia di Siracusa. Infine, tre nel Trapanese. I progetti individuati dovranno garantire il rispetto del cronoprogramma, quindi i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 15 settembre 2023, avviati entro il 30 novembre 2023 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025. Il collaudo finale dell'opera è previsto entro il 31 marzo 2026. Grazie a tutti. Grazie a tutti.